E' stato accolto dalle proteste dei militanti di Reporter San Frontier, il presidente ruandese Paul Kegame in visita a Parigi, accusato di essere un predatore della libertà di stampa. Si tratta del primo viaggio di un capo di stato ruandese in Francia dopo la guerra civile del 94 e dovrebbe riannodare i rapporti economici tra le due capitali.